Maestro, lei conosce champagne? Del maestro di Francia? Esatto. Ma che tonalità? Beh, direi senz'altro un va maggiore. Va bene. Champagne, per brindare a un incontro. Champagne, tu che eri di un altro. Ricorda, quel giorno pioveva. Ricorda, torniamo ancora a casa mia. Vai, champagne, per brindare a un incontro. Per te, che già eri di un altro. Ricorda, quel giorno pioveva. Ricorda. Come hai fatto a sabello, figlio di una vignotta? In che senso, signorina Paule? Canta, non te ferma. Te, che già eri di un altro. Questa è la canzone nostra. Mi è degustata. Ver paraculo sei stato informante. Mi rappendi, ero all'oscuro di tutto. Canta, non fa lo strunzo. Non fa il brindare. Per brindare a un incontro. I casi sono due. O parlo o canno. Comunque mi permette, signorina Paule, di esprimere tutta la mia soddisfazione per aver riportato la gioia sul suo volto. Volto che mi appare vi è più... Vi è più vicino, paraculo. Shamban, per brindare a un incontro. Per te, che già eri di un altro. Oh, come si chiama il fignone? Scarico, scarico. Hai capito, scarico? Beh, ma lasciamo qua, affatto rete. Grazie.